Buongiorno a tutti, benvenuti a questa rassegna stampa di Fano TV. Come sempre leggeremo le notizie che riportano i quotidiani locali. Ma prima di cominciare guardiamo subito il santo del giorno. Oggi è Santa Cunegonda Imperatrice, il sole è sorto alle 6.41 e tramonterà alle 17.59. Per quanto riguarda le previsioni del tempo, oggi martedì 3 marzo il cielo sarà parzialmente nuvoloso con un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, le temperature in lieve diminuzione. Per domani invece mercoledì il cielo nuvoloso, molto nuvoloso nella seconda parte della giornata. Precipitazioni deboli sparse nella prima parte della giornata diffuse anche a carattere di rovescio o di temporale nella seconda parte con cumulate a fine periodo moderate. Le temperature ancora stazionarie o in lieve diminuzione. Per giovedì invece cielo molto nuvoloso, le precipitazioni saranno diffuse a prevalente carattere di rovescio con cumulate moderate, localmente elevate, più insistenti sui settori centro-meridionali. Per i prossimi giorni invece il fine settimana avrà condizioni di instabilità a causa dello stanzionamento della struttura ciclonica originatasi dalla saccatura in ingresso nella giornata di mercoledì. Dunque, partiamo subito dalla pagina di Fano del resto del Carlino. Partiamo dalla lettera di Ivan Dalban, Dio ti punirà, la parabola del fanese scomparso. Dall'esaltazione alla depressione per quell'amore, il contenuto delle mail, amore ma anche odio quando lui scopre di non essere l'unico uomo della sua vita. Nella foto vedete Pegan con Alba, a destra la sorella Barbara che ha denunciato la scomparsa. In alto invece il procuratore Manfredi Palumbo che dice 20 mesi di indagini svolte dalla nostra procura, ma Tirana procede solo per la scomparsa. Invece qua guardiamo lo sfregio all'arte, forse è stata una ragazzata, vandali decapitano il polifemo di Giuseppe Papagni. La scultura dell'artista fanese dal titolo appunto Polifemo è nei giardini pubblici davanti alla chiesa di San Paolo al Vallato ed è stata decapitata dai gnoti l'altra notte. In alto invece il grillino Fico venerdì incontra i cittadini, sarà a Fano in piazza 20 settembre alle ore 18. Proseguiamo poi con il caso. Era accusata di aver soccorso male un paziente, poi ucciso da infarto. Il PM dice la dottoressa non è colpevole, colpo di scena al processo per omicidio. Una vicenda complicata avvenne il 18 agosto 2013 a Carrara di Fano. Pochi scalini e l'uomo Lorenzo Aiudi, 50 anni, è caduto a terra. Soccorso, caricato in ambulanza, è morto durante il tragitto, fulminato da infarto. L'udienza è stata aggiornata al 13 aprile prossimo. Sparò 11 colpi al rivale Giovanni Ciaschini e ai domiciliari. Il GIP ha accolto l'istanza dell'avvocato difensore Marcello Cecchini concedendo gli arresti domiciliari. E poi ancora la polizia stradale, i controlli nel weekend, troppi ubriachi al volante, un super lavoro per gli agenti, sono state trovate 8 persone in stato di ebbrezza e quindi è stata riterata loro la patente. E ancora l'assemblea CISL scuola, il contratto è vecchio di 7 anni. Ieri oltre 400, tra insegnanti e personale ATA, si sono incontrati nell'aura magna del liceo artistico Nolfi di Fano. Proseguiamo. Andiamo ai morsi della crisi. Ieri doppia manifestazione, quindi lunedì di scioperi, bancari in piazza a Fano e a Orciano sit-in degli operai della Cima. E ancora l'8 marzo è ancora vivo tutte le iniziative. Una biciclettata in centro contro la violenza di genere, un omaggio a una partigiana e una vittima delle foibe. La carta del coraggio, impegni offerte per la città, gli scout a Gesci di Fano II hanno incontrato il sindaco di Fano Massimo Seri e il vescovo Armando Trasarti, hanno consegnato loro la carta del coraggio e poi, assieme all'assessore Samuele Mascarin, hanno ripulito i luoghi simbolo della città di Fano. Parliamo di danza, bella affermazione in Toscana con due primi posti della scuola fanese. Capogiro incanta così la giuria fiorentina. Cambiamo, passiamo a Pesaro. Non rispondeva più, è stato trovato morto in casa. Il dramma, la vittima di 51 anni, è stata colta da malore. Per questo, dunque, i vicini hanno ricordato di aver visto l'uomo la settimana scorsa mentre si lamentava di dolore al petto, ma senza dargli troppo peso. Poi, non vedendolo più, hanno allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti, hanno forzato gli infissi, sono entrati in casa e poi hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo. All'OVS, invece, cerca di rubare un abito e è stato arrestato un moldavo. Passiamo al Corriere Adriatico. Nella pagina di Pesaro si comincia e si continua a parlare delle primarie. Quindi abbiamo un dopo primarie, una vittoria che cambia il PD pesarese. La battaglia per la candidatura sancisce la sconfitta di molti grandi mentre cresce la pressione dell'entroterra. Ceriscioli convince le città, ma Rubino è capofila dello scontento di 20 comuni che l'hanno bocciato. I democrat fanesi nel frullatore della resa dei conti, per una volta superata la tradizionale competizione tra la seconda e la terza città delle Marche. Marchegiani dice che l'ex sindaco è il cambiamento e poi contro di lui Aguzzi perderebbe, Solazzi è l'emblema di chi fa politica per ricercare, per la ricerca del potere. Le signore del Parlamento invece invitano all'unità Camilla Fabri e Alessia Morani da opposti fronti, dicono adesso tutti impegnati per vincere. E poi, come vedete, sono riportati tutti i voti provincia per provincia. Bene, proseguiamo. Poi con ancora la cronaca. Auto in fiamme, muore carbonizzato, una tragedia a Canavaccio. Un pensionato è uscito di strada ed è volato per 40 metri. L'impatto ha fatto esplodere l'impianto a metano. E ancora sorpreso a rubare picchia vigilante carabinieri finito in cielo Moldavo uscito da una cabina dell'OVS con indosso gli abiti trafugati. Il dramma di Lorenzo invece è attesa per l'ultimo saluto. Ancora da confermare la data e l'ora dei funerali di Lorenzo Riminucci, 27enne di Mercatello sul Metauro, deceduto domenica mattina dopo essersi sparato un colpo di pistola alla testa all'interno del poligono di tiro in via Condotti, nel quartiere di Muraglia di Pesaro. Vertenza ospedale. Dai delusi arriva allo striscione con uno zero spaccato. Un blitz nella notte. Cinque stelle chiedono spiegazioni sulla moltefiltro. Stroncato da infarto. È stato trovato in casa senza vita. Quello che abbiamo appunto visto poco fa. Proseguiamo con la pagina di Fano. Tagliano le gomme a cinque auto della Polizia Municipale. In centro ancora sangue e immondizia raccolta alla rinfusa davanti al Duomo nei giorni del mercato. Centro pagina. Non si può vivere nella paura, reagiamo. Quindi un allarme sicurezza contro l'ondata di furti in casa. Il presidente Acli invita a rafforzare la solidarietà di vicinato. Dice non si può vivere nella paura, dobbiamo reagire, cercare di aiutarci l'un l'altro. Questo appunto è il pensiero del sociologo Maurizio Tomassini, presidente provinciale Acli. Tomassini esalta l'unità delle elezioni sulla difesa passiva e stigmatizza i limiti della legislazione. Mozzata la testa della scultura di Polifemo, anche qui viene riportato l'atto di vandalismo. Come dicevamo prima, forse è stato effettuato da dei ragazzini. I bancari degli istituti cooperativi in piazza per la prima volta, con cartelli fischietti, hanno sfilato in difesa del sistema di credito. E ancora, nell'anno della crisi, Avis, Avis e Difano, trova altri 329 donatori. Quindi c'è stata l'assemblea annuale ed è stata confermata la raccolta. Torniamo alla festa delle donne, all'8 marzo, forza e idee per migliorare la vita. Domani convegno sulle prassi contro la violenza, domenica invece una pedalata con omaggio ad Anna Tonelli. Alla Memo nel pomeriggio invece ci saranno delle letture contro gli stereotipi, quindi la cura del lavoro. Come dicevamo prima, Fico incontra i fanesi in piazza, un evento 5 stelle venerdì 18, con lui appunto è il candidato governatore. Uno sguardo spirituale sull'economia, quindi stasera a Terre di Mezzo, l'iniziativa è promossa dal Circolo Marten di Fano, azione cattolica diocesana Acli Provinciale, comunità monastica di Montegiove e fondazione Girolomoni. Questa sera alle 21 alla sala San Michele in via Orco d'Augusto si inizia con la presentazione del libro Politica e Economia. Proseguiamo, passiamo alle primarie ancora, la vittoria di Luca Ceriscioli, Ricci ora si cambia, Marcolini però vince in due province e peserà i nodi dell'ex sindaco, alleanze e unità del partito. Anche qua vengono riportati tutti i verdetti, quindi i risultati. Alessia Morani dice Marche 2020, progetto bocciato dall'eccezionale partecipazione, ora tutti insieme. La sfida sarà tra rivoluzione e continuità, ancora il professore sfonda Pesaro Fermo e Ascoli, all'assessore Macerate Ancona, Carescia dice servono considerazioni approfondite sul caso capoluogo. E poi la richiesta di Confindustria, la nuova giunta sia attenta al lavoro e alle imprese. Continuiamo con il messaggero, Ceriscioli e Spacca è già duello. Luca dice inizia il cambiamento, basta yes man e sanità, priorità vogliamo, area popolare non marche 2020, aggirano le regole. Gian Mario Spacca dice invece il problema non sono io, sono i burocrati di partito. Qui si vuole disperare dieci anni di buon governo, non accadrà. Il professore di matematica non sbaglia con i numeri, Marcolini invece avverte l'esito non premia il cambiamento radicale evocato da Ceriscioli. E al centro vi sbagliate, io ho vinto e comi non rivendichi meriti. In fondo invece CNA e Confartigianato riparte l'occupazione in un anno 24 mila posti di lavoro in più. Continuiamo con il messaggero, multe diminuite, ogni pesa rese paga 41 euro e 7 centesimi. Nel 2014 il Comune ha incassato oltre 2 milioni di euro nel nuovo bilancio, previsti 5 mila euro in meno. E poi appartamenti, prezzi e vendite ancora in calo, ma l'osservatorio della FIAIP vede segnali di ripresa. Resta il problema dell'accesso al credito. Bene, andiamo avanti ancora con il messaggero. Per Pasqua aperti solo la metà degli hotel, oltre ai 17 alberghi annuali, soltanto 4 e 5 saranno in grado di accogliere i turisti. Tutti gli altri sono senza riscaldamento. Troppo pochi invece gli interventi per riqualificare le strutture. Il sindaco dice che la delibera non dà i frutti sperati. E poi dopo la mareggiata, la zona mare ripristinata entro un mese. Tasi le famiglie più deboli saranno esenti. L'assessore delle noci dice che non intendiamo ritoccare le tasse, stanziati 250 mila euro per il fondo anticrisi. Ok, andiamo avanti. Ancora nella pagina di Pesor Orbino esplode la bombola. Dopo l'incidente muore carbonizzato. La tragedia è accaduta a Canavaccio. La vittima, come dicevamo prima, è un pensionato di 76 anni finito con l'auto a metano in una scarpata. Un rogo devastante. E poi fanno sparire un tratto di fiume. Tre denunciati dalla forestale, successo a San Costanzo, nei guai due proprietari di un terreno e l'agricoltore che lo aveva preso in affitto. Polizia stradale, di notte i controlli, ritirate otto patenti. E poi poste italiane giustifiche, tagli agli uffici, il territorio non è indebolito. Passiamo alla pagina di Fano. Vandali nella notte accecano l'occhio di Polifemo. Anche qua è riportato questo atto di vandalismo. Poi chiesta la soluzione per il medico del 118, paziente morto dopo il soccorso. Il PM scagiona la dottoressa. E poi credito cooperativo dipendenti in sciopero. Quindi la protesta riportata e ancora a centro pagina la sorella dello scomparso. Bisogna trovare la donna. Barbara Pegan, la sorella di Ivan Angelo, chiede che sia sentita Alba, l'ex fidanzata albanese. E anche qua gli scauteri puliscono la città, poi salutano Seri e Trasarti. Bene, è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. Grazie per la vostra attenzione. Ci vediamo questa sera per il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Come sempre alle 20 e 30. Buona giornata a tutti voi. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.